Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village. Si è tenuto a Teramo il primo seminario regionale sulla scuola digitale in Abruzzo. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti varato il Piano Nazionale Scuola Digitale, mettendo in atto importanti azioni come classe 2.0 e scuola 2.0. In Italia le scuole digitali 2.0 riconosciute dal Ministero sono 38 su 8.519. In Abruzzo su 2.000 scuole l'unica riconosciuta come tale è l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Marino Forti di Teramo. Si è tenuto a Teramo nell'auditorium dell'Istituto Superiore Alessandrini Marino Forti il primo seminario regionale sulla scuola digitale in Abruzzo. Una realtà da condividere tra tutte le scuole con l'obiettivo di crescere insieme. Il Ministero dell'Istruzione ha recentemente varato il Piano Nazionale Scuola Digitale e ha messo in atto importanti azioni come classe 2.0 e scuola 2.0. Molte scuole hanno acquisito tecnologia e hanno iniziato a sperimentare nuove metodologie per modificare l'approccio didattico e il processo di insegnamento e di apprendimento. In Italia le scuole digitali 2.0 riconosciute dal Ministero sono 38 su 8.519. In Abruzzo su 2.000 scuole l'unica riconosciuta come tale è proprio l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini. Una bellissima giornata, un seminario davvero riuscito, tanta la partecipazione, motivi di orgoglio per l'Istituto Alessandrini, non solo per questo seminario ma un po' per tutto. Voi siete un po' il capofila di questo progetto. Sì, diciamo questo anche grazie alla fiducia che ci ha dato il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha voluto fortemente fare questo progetto per la scuola abruzzese. Sicuramente è un momento di confronto importante, è una grande opportunità per gli istituti scolastici. Verranno, emergeranno sicuramente nel corso di questa giornata, tutte le buone pratiche della scuola abruzzese rispetto all'innovazione didattica e tecnologica. Le tecnologie sono entrate nell'uso quotidiano delle scuole. Sicuramente questo ha comportato un rinnovamento della didattica, una sicuramente grande formazione da parte dei docenti, in quanto sicuramente i ragazzi sono nativi digitali. Per quanto riguarda gli istituti e le scuole secondarie di secondo grado, soprattutto le nostre, il settore tecnico-tecnologico, ma anche degli altri istituti scolastici, Gli studenti hanno una grandissima preparazione sulle tecnologie, a volte le utilizzano male, quindi la scuola oltre a convogliare queste grandi risorse in qualcosa di una lettura positiva sicuramente dell'utilizzo, sono uno strumento efficace e utile nella didattica senza far venire meno il ruolo del docente che è comunque un ruolo centrale e un ruolo ancora più importante. La presenza dell'assessore regionale è stata importante, la dottoressa Sclocco, in quanto sicuramente ha fatto emergere i progetti sia del MIUR che della regione Abruzzo, per quanto riguarda gli investimenti e fondi alle scuole. Sicuramente tutti i presenti qui attivano delle buone pratiche negli istituti scolastici, sia con grande senso di responsabilità, ma anche con la complessità degli istituti, dell'edilizia scolastica, quindi sicuramente ci sono grandi difficoltà, anche quando le scuole hanno delle grandi dotazioni tecnologiche come la nostra, perché poi nel quotidiano richiedono sia un utilizzo adeguato da parte dei docenti, quindi con grandi capacità e quindi grandi competenze professionali, ma anche far funzionare tutte le LIM, per esempio ogni giorno il nostro istituto, che sono ben 55, con l'usura e poi anche i costi della manutenzione delle strutture tecnologiche, insomma sono una grande sfida per la scuola italiana. Noi speriamo sicuramente che da questi incontri, poi ci saranno altri seminari regionali, noi abbiamo fatto il primo in apertura, sicuramente perché eravamo una scuola individuata dal direttore generale per questo progetto, che avrà sviluppi futuri, serve anche per lanciare il sito Abruzzo Scuola Digitale, dove speriamo che le scuole presenti possano già mettere i loro materiali, affinché questo sito possa essere una vetrina per la scuola abruzzese, che sicuramente ha delle grandi risorse, ma che nel futuro possa permettere in questa rete sicuramente regionale di condividere le buone pratiche e avere sviluppi futuri sempre migliori per la scuola abruzzese. Dalle testimonianze che arrivano dalle scuole non sempre, però le esperienze didattiche digitali sembrano essere positive o percepite come tali. Dunque, la digitalizzazione della scuola è attualmente oggetto di un ampio dibattito tra chi crede che le tecnologie siano indispensabili per migliorare la didattica e l'apprendimento e tra chi pensa che siano inutili, anzi fonte di distrazione per gli studenti. L'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo ovviamente si schiera con i primi e lancia il progetto Abruzzo Scuola Digitale e ne affida l'attuazione all'Istituto Alessandrini di Teramo. Direttore Pellecchia, la regione Abruzzo ha assicurato che investirà molti milioni di euro nella scuola digitale in Abruzzo, dunque l'Abruzzo farà un salto in avanti? Il salto in avanti dipende dal modo in cui noi riusciremo a utilizzare il modo più profico e il modo più efficace delle risorse. Quindi ottima la notizia che noi apprendiamo con piacere di queste importanti risorse che possono provenire, che proverranno dalla regione, 5 milioni di euro per il digitale nella scuola. Intanto voi andate avanti con il vostro progetto. Il nostro progetto credo che si inserisca proprio in quest'alveo, in questo solco di attività che noi contiamo di porre in essere, anche grazie a questi canali di finanziamento, perché le risorse da sole non è che fanno miglioramento. Concretamente in cosa consiste questo progetto? Questo progetto è un progetto articolato in varie fasi, un progetto molto capillare, che tende sostanzialmente a far perno sulle punti di eccellenza della regione, cercando di sviluppare con queste scuole della regione, in primo luogo l'Alessandrini di Teramo, delle forme di collaborazione per far sì che, attraverso questa sinergia tra ufficio scolastico e regionale, le scuole del territorio più avanti per quanto riguarda l'utilizzo delle tecnologie multimediali, si possa, come dire, innescare un meccanismo di contaminazione positiva di tutte le scuole del territorio. Noi vogliamo che a crescere siano tutte le scuole del territorio, non solo le punte di eccellenza che sono già di loro abbastanza avanti. Il nostro obiettivo è far crescere in modo armonioso, in modo, diciamo, in modo così diffuso, da questo punto di vista rispetto a questa specifica problematica, tutte le scuole del territorio, dalla prima all'ultima. L'innovazione digitale nella scuola sembra sia inevitabile e necessaria, ma è inutile ricordare che esistono difficoltà e criticità che si riscontrano quotidianamente nelle varie realtà scolastiche e che vanno eliminate. Problemi di tipo infrastrutturale e di connettività limitata, applicazioni che non si aprono o si bloccano, registri elettronici che non funzionano bene, stampanti senza toner, computer infestati da virus, LIM inutilizzate. E' dunque necessario che i docenti siano formati all'utilizzo delle nuove tecnologie, in modo da poter ripensare la didattica. In questo la Regione Abruzzo può essere decisiva attraverso le proprie politiche di sviluppo. La Regione Abruzzo come sostiene la scuola digitale? La Regione Abruzzo ha fatto un patto, diciamo, ha stipulato un patto con il Ministero, per cui arriveranno 10 milioni di euro, 5 milioni destinati alle nuove tecnologie, e ai laboratori, e 5 milioni di euro alle nuove tecnologie e ai laboratori delle scuole medie, soprattutto quelle, diciamo, di montagna, delle aree interne. Poi sicuramente ci saranno i fondi PON, che sono 41 milioni di euro, sempre del Ministero, che ci ha in qualche modo penalizzato con l'FSE, ma che in qualche modo compensa con il PON Istruzione. 41 milioni di euro destinati all'istruzione e fondamentalmente all'inclusione sociale. E poi ci sono i fondi FSE. Abbiamo molto meno fondi, la metà degli anni precedenti, però sicuramente destineremo parte di questi fondi allo sviluppo e al sostegno, soprattutto delle nuove professionalità legate alle nuove tecnologie, e anche magari appunto per sostenere le antiche, le tradizionali professioni, però appunto rivitalizzate grazie all'uso delle nuove tecnologie. e quindi nella formazione, anche nell'incontro della formazione lavoro, investiremo diversi fondi. La capacità di utilizzare e gestire programmi informatici risulta essere un bagaglio prezioso, forse indispensabile per trovare lavoro. Oggi le imprese cercano professionisti che conoscano bene le nuove metodologie informatiche con le quali velocizzare le procedure aziendali. La conoscenza delle nuove tecnologie informatiche garantisce una marcia in più, già a partire dalle prime classi della scuola primaria. La digitalizzazione si sta affermando gradualmente negli istituti scolastici del Paese. Per chi invece non ha avuto la fortuna di frequentare scuole digitalizzate, è importantissimo formarsi il prima possibile per essere in grado di gestire programmi informatici che consentono di velocizzare le procedure aziendali e di ottimizzare i risultati. Essere capaci di fare questo permette di avere maggiori possibilità occupazionali. La scuola italiana diventa sempre più digitale, l'uso delle tecnologie ormai è diffuso, però per esempio non tutti gli insegnanti, i docenti, le sanno usare. Ecco, il vostro gruppo cosa propone? Allora, sì, abbiamo riscontrato anche noi, anch'io direttamente, questa nuova propensione all'utilizzo di tecnologie nelle scuole. Lo vedo anche con mia figlia che frequenta la terza elementare, utilizzano la LIM, questa nuova tecnologia, questo nuovo strumento didattico che sicuramente aiuta nel fare formazione. Devo dire che c'è una nuova propensione all'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle scuole. Io, in questa fase nella quale seguiamo, diciamo, le scuole del territorio abruzzese per la fase di orientamento. Abbiamo visto che molti dirigenti scolastici utilizzano l'informatica, il web per la didattica e sicuramente questo non può che far bene ad una generazione che è figlia della tecnologia e del web. Il gruppo Consorform da sempre è vicino a questa problematica, anzi, abbiamo nel corso degli anni formato tanti giovani che uscivano dalla scuola e non erano comunque preparati sotto questo aspetto. E ancora oggi il nostro cavallo di battaglia, il corso di Operatore DP, regge e riscuote successo in ogni edizione. Chi è preparato in questo? Poi, che tipo di lavoro può trovare? Guardi, innanzitutto dobbiamo dire che il corso di Operatore DP, quindi il corso di informatica di base con l'utilizzo del pacchetto office, è un corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 845. Quindi questo significa che comunque abilita, oltre che ad avere competenze in ambito informatico, anche a partecipare a pubblici concorsi. La pubblica amministrazione, la ASL, così come gli altri presidi, comunque le altre amministrazioni locali, richiedono proprio questo tipo di qualifica professionale. E non solo la pubblica amministrazione, ma anche la scuola. Il corso di Operatore DP riconosce per il personale ATA, quindi personale di segretaria, un punto e mezzo. Insomma, è un corso che, al di là di quelli che sono i contenuti puramente tecnologici, ha un suo valore, il cosiddetto pezzo di carta ancora ha la sua importanza. È quasi necessario oggi. Beh, io dico che comunque viviamo un'epoca nella quale l'informatica e il web rappresentano la quotidianità, per cui l'inglese e l'informatica non devono mancare nel cassetto di nessuno. La recente Fiera dell'Agricoltura di Teramo, la 27esima per l'esattezza, si è conclusa con un bilancio molto positivo e con grandi numeri che hanno riguardato espositori e visitatori. L'amministrazione comunale è già in movimento, però, per apportare qualche modifica alla prossima edizione, quella del 2016. Le novità? A gran richiesta ci saranno più animali in mostra, ma per la prima volta si pagherà anche un biglietto di entrata. Appena conclusa è già l'impianta da tutti. È la 27esima edizione della Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che anche quest'anno ha fatto registrare grandi numeri. 85.000 presenze nei tre giorni di mostra a piano d'accio, 140 gazebi, 200 espositori e 17.000 visitatori sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Spulciando tra le novità di questa edizione troviamo anche nuove, antiche colture. Noi coltiviamo la canapa e poi la elaboriamo per avere un prodotto finito, alimentare l'innovazione. Qual è la buona qualità della canapa? Le qualità sono innumerevoli. Ci sono parti del mondo in cui la usano come un prodotto antitumorale, è ottima per la digestione, aiuta ad abbassare il colesterolo, contiene acido linoleico, che sono pochissimi gli alimenti che lo contengono, e quindi omega 3, omega 6, omega 9, di cui è ricco il pesce, ma il pesce ha poi altri metalli pesanti che cinquinano, invece la canapa è un prodotto vegetale, quindi libero da tutti questi. Siete un po' unici in questa provincia? Sì, perché siamo tra i primi a farlo in Abruzzo. Quando si parla di agricoltura il pensiero va subito al duro lavoro dell'uomo sui campi e all'evoluzione che questo ha avuto grazie ai macchinari. Ricordare il debutto dei primi trattori e delle prime mietitrebbie è sempre un'emozione. Siamo davanti a uno dei più vecchi trattori utilizzati dall'uomo in agricoltura. Negli anni venti vengono introdotte queste macchine che aiutano parecchio. Sono le prime trattrici che ha messo sulla Fiat all'epoca e li utilizzavano per trasporto di cucine da campo, cannone e robe varie giù in Libia, la guerra della Libia. Ad esempio questo è uno dei primi Fiat, come dicevo, del 1928-1929, restaurato perfettamente, funzionante. Il trattore che funzione ha? La funzione è di alleggerire il sistema operativo del lavoro. Negli anni venti non esisteva niente, la zappa è una cosa paurosa. Chi aveva un mezzo del genere era un grandissimo signore. Accanto agli espositori della 27esima Fiera dell'Agricoltura a Piano Daccio non poteva mancare lo stand dell'Inail di Teramo, ente da sempre in prima linea nella prevenzione di incidenti sul lavoro, soprattutto nel settore agricolo. Prevenzione sugli infortuni sul lavoro agricolo. Come vanno le cose? Migliorano? Peggiorano? L'Inail come si impegna in questo? Dunque, i dati in sé degli ultimi cinque anni, per quanto riguarda l'andamento infortunistico, segnalano un miglioramento della situazione, diversamente dalle malattie professionali che sono in aumento. Questo non significa che il fenomeno sia da sottostimare, perché l'agricoltura, insieme alle edilizie, è uno dei due settori in cui nella regione Abruzzo e quindi anche nella provincia di Teramo si registra una maggiore incidenza di un andamento infortunistico. L'Inail è da sempre attenta a questo fenomeno, al punto tale che a fine dell'anno 2014, su livello nazionale, ma in particolare in Abruzzo, ha emanato un bando per finanziare i piccoli interventi che in realtà sono quelli che poi salvano la vita, il roll bar che protegge la cabina, perché in gran parte gli infortuni nell'agricoltura sono dovuti al rovesciamento del trattore, in persone prevalentemente anziane e tra l'altro non sono tutti infortuni, molti sono i cosiddetti obbisti, cioè persone escluse dalla copertura assicurativa che svolgono questa attività, diciamo, perché traizioni di famiglia. Quindi noi stiamo coprendo molto il fenomeno, nella sola provincia di Teramo stiamo valutando circa 180 richiesti di finanziamento, per cui direi che per quanto il fenomeno in sé non sia forse completamente eliminabile si può agire per una gestione, per una riduzione dello stesso. Il nome del pagliotto d'argento, opera ormai simbolo della città di Teramo, realizzata da Nicola da Guardiagrele, le due realtà abruzzesi si gemellano proprio sull'artigianato artistico di pregio. Si tratta di un'iniziativa culturale voluta dall'associazione Shop Art di Teramo, nota per promuovere artisti e mostre d'artigianato lungo le vie del centro. 36 formelle d'argento esposte sotto l'altare del Duomo di Teramo che raccontano la vita e la passione di Cristo, un'opera magnifica terminata nel 1448 dall'artista Nicola di Guardiagrele. Oggi è uno dei simboli della città ed è stata celebrata anche in un francobollo che la renderà nota a tutto il mondo filatelico. In nome del pagliotto nasce anche un gemellaggio tra Teramo e Guardiagrele, due realtà abruzzesi che si distinguono per l'eccellenza dell'artigianato di pregio. Il pagliotto di Teramo è il gioiello di Teramo. purtroppo è molto poco conosciuto. Voi in questo vi state impegnando? Io credo che sia una cosa molto importante quella che abbiamo intrapresa, cioè illustrare un po' questo pagliotto ai Teramani, molti dei quali ho avuto la sorpresa, non lo conoscono affatto. È una delle opere più importanti di Nicola da Guardiagrele, Senz'altro la più importante, ma una delle più importanti è il Centro Italia, quindi un'opera di grande valore che è datato ed è firmato. È datato nella prima casella, quella dell'Annunciazione, 1433, ed è firmato e datato come completamento dell'opera nel 1448 da Nicola da Guardiagrele. Quindi un'opera di altissimo valore che anche... Voi promuovete con un convegno, però per promuoverlo ed aprirlo ai turisti, voi cosa proponete per esempio? Noi proponiamo anche un riferimento a quanto il Papa ha voluto fare col prossimo giubileo. vorremmo introdurre quest'opera nell'ambito delle celebrazioni del giubileo perché l'Abruzzo ha tante di queste magnificenze. Se pensiamo a San Gabriele, la Scala Santa, il Volto Santo di Manoppello, con le Maggio dell'Aquila, sono opere importantissime. Io credo che anche il pagliotto stia bene in questo ambito culturale. Qual è la particolarità di questo pagliotto? La particolarità è che sono 35 formelle di cui è una sola doppia e è uno sbalzo molto evidente e ha una relazione anche con la porta nord del Battistero di Firenze dove Nicola da Guardiagrele è stato più volte e pare che alcune di quelle formelle della porta nord di Firenze sia riportate pure in questo pagliotto. L'iniziativa culturale sul pagliotto d'argento rientra in una serie di eventi organizzati dall'associazione terramana Shop Art che da anni si impegna nel rivitalizzare le vie del centro storico cittadino con mostre di artisti e artigiani abruzzesi. Abbiamo un progetto che è stato per fortuna approvato dalla fondazione ci sostiene Fondazione Tercas Tercas ovviamente ci sostiene per la specificità degli eventi che noi programmiamo. Di solito sono sei gli eventi dell'anno aprile, maggio e giugno, ottobre, novembre e dicembre e la giornata si svolge in via d'annunzio perché noi vogliamo valorizzare le vie trasversali da Corso San Giorgio, destra o sinistra in questo caso via d'annunzio facendo una ricerca storica via d'annunzio oggi ci sono quattro studi artistici di pittura, orafi ma facendo una ricerca storica sul posto una storia orale facendo parlare gli abitanti si ricordano che dagli anni 30, 40 e 50 erano quasi 20 le botteghe degli artigiani che lavoravano in questa via Insomma Teramo possiamo dire che è stato un esempio di artigianato artistico? Sempre, un artigianato artistico sempre perché Teramo non è l'Abruzzo come si vuol dire solo pastorizia ma l'Abruzzo è ricco di artisti, di opere d'arti che speriamo possano essere valorizzate e conosciute sempre più Noi ecco come associazione vogliamo non far riemergere artigianato quello di una volta ma promuovere la possibilità di esporre il prodotto artigianale quello oggi fatto in casa perché non è più la bottega non esiste quasi più, non esiste più il maestro ma molte forme di artigianato viene lavorato in casa ora non si sa dove poter esporre queste forme di artigianato che stanno nascendo in assenza anche del lavoro della società che manca, quindi ci si diletta nel lavorare il legno nel lavorare bigiotteria, nel lavorare il ferro organizzate queste esposizioni e noi ospitiamo e diamo la possibilità a questi artisti, artigiani di far ammirare le loro opere Eccoci giunti alla nostra rubrica di informazione economica curata da Stefano Di Ventura direttore commerciale di Intercredit Confidi Oggi Stefano ci spiegherà i vantaggi del medio credito centrale da parte dello Stato e il fondo di garanzia per le banche un approfondimento di argomenti molto attuali nella fase storica che stiamo vivendo Buonasera, ben ritrovati In molti messaggi telefonate e nelle mail trovo richieste di conoscere quello che è il medio credito centrale Cercherò di essere semplice nella spiegazione ma soprattutto efficace trattandosi di un argomento estremamente ampio Il medio credito centrale è un fondo di garanzia istituito dalla comunità europea in essere nel Ministero dell'Economia e Finanza italiano che permette di ricevere da parte dello Stato una garanzia molto molto forte e estremamente valida per gli istituti bancari Intercredit nel luglio del 2012 è stato accettato da questo fondo di garanzia come confidi che può riconoscere il medio diritto creditizio delle imprese e riesce attraverso questo importante valore che gli è stato attribuito ad avere una celerità nelle risposte di questo fondo comunque di gestione ministeriale in massimo 23-25 giorni Attraverso questo fondo riusciamo ad offrire delle garanzie estremamente elevate fino al 90% del capitale richiesto dalle imprese il costo è a completo carico di Intercredit tutto quello che ruota attorno alla richiesta di questa garanzia statale viene gestita dai nostri uffici centrali per agevolare il socio o cliente che ne faccia richiesta per accedere ad un credito rapido e sicuramente a dei costi estremamente bassi vi invito pertanto se doveste aver bisogno arregarvi nei nostri uffici sia quello centrale in via Molinari che quelli periferici siti in Giulianova, Pescara e Lanciano i nostri colleghi, i nostri amministrativi di sede sono a vostra completa disposizione per darvi tutte le notizie di cui avete bisogno continuate comunque a scrivermi, cercherò di rispondere in maniera celere ed efficace a vostra disposizione, a presto 56 anni, è nato al Cairo, musulmano moderato, si è poi convertito a cristianesimo a battezzarlo è stato Papa Ratzinger in Vaticano editorialista del giornale, ex vice direttore del Corriere della Sera è noto per le sue tematiche sui rapporti tra Oriente e Occidente e le sue posizioni critiche sul mondo islamico che gli hanno procurato critiche ma anche consensi è eurodeputato fino al 2014 fondatore del movimento Io amo l'Italia vincitore del premio Den David per il suo incessante lavoro a favorire la comprensione e la tolleranza fra le culture vive sotto scorta da 12 anni cioè da quando gli islamisti lo hanno condannato a morte Secondo lei l'Italia ha perso la sua identità religiosa? L'Italia, gli italiani per la precisione hanno perso la certezza di chi siamo sul piano delle radici, della fede dei valori, dell'identità e finiamo pertanto per concepire la nostra civiltà come se fosse una landa deserta Immaginiamo che la civiltà debba essere un processo di natura quantitativa dove ogni giorno si sommano le istanze di tutti coloro che arrivano piantano la loro tenda e dettano le loro condizioni Ecco, noi dobbiamo invece riacquisire la certezza di chi siamo perché solo in questo modo torneremo ad essere forti dentro e solo se saremo forti dentro potremo confrontarci costruttivamente e amorevolmente con il prossimo Una riflessione sull'immigrazione L'immigrazione oggi è diventata una emergenza ed un problema Noi stiamo subendo una vera e propria invasione che non riusciamo a controllare di cui non possiamo più continuare ad accollarci oneri e ricadute sociali Soprattutto in un momento in cui l'Istat ci dice che ci sono 12 milioni di italiani poveri dai 4 ai 6 milioni di italiani che per sopravvivere fanno la fila alle menze dei poveri Quindi questa accoglienza incondizionata che comporta per ciascun clandestino l'esborso di una cifra giornaliera stimata in 35 euro quindi parliamo di oltre 1000 euro al mese in un momento in cui un terzo dei nostri pensionati sopravvive con meno di 500 euro inevitabilmente finisce per scatenare una guerra tra poveri Io credo che sia arrivato il momento di bloccare questa immigrazione è necessario che ci sia un blocco navale a ridosso del nostro confine marittimo delle nostre acque territoriali considerando che sull'altra sponda oramai da 4 anni sono i terroristi islamici che controllano il litorale libico ed è l'Isis stesso che ci ha avvertito che qualora l'Italia dovesse intraprendere una guerra in Libia contro l'Isis ci invaderanno con 500.000 clandestini l'accoglienza è un sentimento cristiano l'esortazione evangelica recita ama il prossimo tuo così come ami te stesso quindi noi la dobbiamo applicare nella sua integralità non possiamo limitarci solo alla prima parte ama il prossimo tuo dimenticando la seconda parte così come ami te stesso noi dobbiamo amare noi stessi per poter amare il prossimo perché solo se siamo colmi d'amore possiamo donare amore grazie di essere stati in nostra compagnia ci vediamo la prossima settimana puntuali con Abruzzo Village buona serata a tutti voi grazie a tutti